Quante volte vi è capitato di prendere in mano la bolletta dell'elettricità pensando di trovare determinati numeri e scoprire che c'era tutt'altro? O magari sottoscrivere un nuovo contratto con in testa un'idea di più o meno quanto sarebbe stato il costo e alla fine avere la sorpresa? A me è capitato, credo di non essere solo, e il motivo è che i fornitori di energia, in realtà energia elettrica, gas e in generale tutte le forniture a cui siamo abituati, comunicano unicamente una parte dei costi che dobbiamo affrontare. Perché fanno così? C'è un motivo ufficiale e un secondo meno ufficiale, infatti lo faccio passare in questo video come una mia semplice opinione. Il motivo ufficiale è che loro comunicano unicamente le voci di costo su cui hanno controllo, rimandando poi per tutto il resto alle famigerate condizioni contrattuali, quei fogli scritti fitti fitti in termini spesso tecnici con riferimento alla legge X barra B comma C di cui non si capisce niente. Il motivo meno ufficiale, quindi la mia opinione, è che ovviamente è più semplice passare l'idea di costi più bassi e omettere, cioè rimandare alle condizioni contrattuali, tutta una serie di costi che potrebbero chiaramente scoraggiare e rendere più lenta l'acquisizione di un nuovo cliente. In questo video quindi capiamo come leggere e interpretare la bolletta, quali sono le macro voci, quelle su cui abbiamo controllo e che dobbiamo considerare per fare le scelte giuste quando chiaramente ci vengono proposti dei nuovi piani commerciali o se vogliamo allo stato attuale guardarci in giro per magari sottoscrivere altri contratti e risparmiare sulla bolletta di luce come viene genericamente chiamata per alimentare chiaramente tutta la nostra tecnologia o, per chi ce l'ha, anche l'auto elettrica. Tutto quello che vi dirò è frutto di uno studio e di una lettura di tanti documenti, assolutamente nulla di segreto, tutti i documenti che sono pubblici e disponibili su vari siti web di cui vi lascio alcuni link qui sotto in descrizione. Dal punto di vista dell'impatto su quello che crediamo di pagare e quello che alla fine dobbiamo pagare, questa pratica, questa mancanza di informazioni chiaramente può portare a differenze importanti. Un esempio su tutti. Prima della situazione energetica attuale, dove sappiamo tutti che in questi ultimi mesi il costo dell'elettricità è aumentato molto, non è un segreto che il totale della bolletta dell'elettricità era composta per il 30-40% dai costi che il fornitore di energia può controllare, che vedremo fra poco, e per il 60-70% della bolletta da costi che gli piovono dall'alto. C'è tutta una serie di voci che vengono incluse nella bolletta, ma che di fatto arrivano da governo e altri enti che sono interessati nel processo di acquisto, stoccaggio, distribuzione ed erogazione dell'energia. Oggi queste percentuali non sono più così, sono addirittura quasi ribaltate, ma ovviamente la situazione è sempre in evoluzione e non cambierà mai il fatto che una parte di quello che noi paghiamo rimarrà sempre fuori controllo da parte dei fornitori ultimi di energia. Sono essenzialmente due i punti su cui il fornitore di energia ha controllo, e cioè quelli che solitamente espone nelle sue offerte commerciali. Il costo della materia prima e il prezzo di commercializzazione. All'interno di queste due voci ci sono tante piccole sottovoci che però non sono come dire spacchettabili, cioè ve le beccate tutte assieme e per questo le tratteremo come una singola voce. Il costo della materia energia o quota energia o materia prima, questi sono i modi in cui solitamente viene chiamata, sono espressi in un tot di centesimi di euro al kilowattora e ovviamente dipendono da quanto voi consumate. Che abbiate un contatore da 3 kilowatt, uno da 6, uno da 10, questo prezzo non cambia a meno che per qualche motivo non venga chiaramente espresso dal fornitore. Prendete il totale di kilowattora che voi consumate, basta guardare una delle ultime bollette, o ne prendete le ultime e fate una media, moltiplicate il consumo per questo valore e ottenete la spesa per l'energia, cioè per la materia prima. C'è chi vi fa pagare un tot fisso al kilowattora, cioè che vi fa pagare in base a quando vengono effettuati i consumi. Un'indicazione che posso darvi in questo contesto per capire quanto un'offerta sia concorrenziale o meno è di confrontare il costo dell'energia che vi viene proposto con il costo dell'energia nella vendita all'ingrosso. Ecco, questo costo di vendita all'ingrosso dell'energia è quello che fisicamente i fornitori di energia pagano loro stessi per l'acquisto dell'energia che poi vi viene rivenduta. C'è un sito si chiama mercatoelettrico.org in cui questi dati sono pubblici e consultabili mese per mese, vi lascio il link qui sotto in descrizione. Dovete guardare su quel sito quello che viene chiamato PUN, P-U-N, prezzo unico nazionale. Prendete come riferimento il PUN medio mensile. Se guardiamo ad esempio questo valore per il mese di marzo 2022, che qualche mese fa è il momento in cui ho effettuato le ricerche per questo video, il PUN medio era di 308,7 euro al megawatt. Quindi facendo una divisione, passando dal megawatt al kilowatt, stiamo parlando di poco più di 30 centesimi di euro al kilowatt ora. Quindi prendete il valore sulla vostra bolletta del costo energia al kilowatt ora o prendete il totale e dividetelo per i kilowatt ora, consumate così tenete il valore del singolo kilowatt ora e confrontate il risultato con il PUN medio. Così capirete quanto il vostro fornitore di energia sta marginando, cioè quanto sta ricaricando sul costo puro dell'energia. Il secondo punto su cui il fornitore ha controllo è quello che si chiama prezzo di commercializzazione. Qui in realtà è a metà e metà, cioè tra l'estero una voce fissa e una variabile, nel senso che questo parametro, questo costo, viene comunicato da RERA, Autorità di Regolazione per Energia, Rete e Ambiente, e che identifica i costi fissi sostenuti per svolgere le attività di gestione commerciale dei clienti, cioè identifica un costo medio nazionale. Questo numero, come detto, viene generato da RERA e viene emesso come un'indicazione che i fornitori di energia possono utilizzare. Essendo quindi una spesa che deriva dal lavoro di gestione commerciale da parte del fornitore, un fornitore ha tre scelte davanti. Scelta numero uno, farvi pagare il valore medio indicato da RERA, scontarvelo, cioè farvi pagare meno, cosa che è quasi impossibile, farvi pagare qualcosa di più, da tanto a poco di più, cosa che invece è probabile. Assicuratevi quindi che questa voce venga esplicitata ed è una voce che si chiama tecnicamente PCV, prezzo commercializzazione vendita. Come detto anche in questo caso esistono delle delibere nel sito di RERA dove vengono aggiornati questi dati ogni tre mesi, ogni trimestre e per cercare la cosa più semplice è andare in Google e cercare qualcosa come RERA PCV 2022, così trovate subito le pagine indicate. Se vedete che il vostro fornitore vi mette fuori un prezzo più alto rispetto a quello indicato mediamente da RERA, allora sta ricaricando più del dovuto, o meglio sta probabilmente ricaricando più degli altri. Se il prezzo è più basso, impossibile, però potrebbe anche succedere, quindi come dire bene, se invece è simile allora è nella media. Prima di parlare dei costi su cui il fornitore non ha controllo parliamo delle fasce di consumo. Sono definite dalle diciture F1, F2, F3 o un mix di queste, ad esempio F23, che significa un'aggregazione tra F2 e F3. La fascia F1 va dal lunedì al venerdì dalle 8 di mattina alle 7 di sera, alle 19. L'F2 va dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 8 di mattina e dalle 19 alle 23 e il sabato invece dalle 7 alle 23. F3 va dal lunedì al sabato da mezzanotte alle 7 di mattina, dalle 23 alle 24, mentre domenica e festivi vale per tutto il giorno. I contratti di fornitura potranno essere mono orari, cioè a tutte le ore di tutti i giorni, i costi della materia energia è sempre la stessa o tariffe con due zone orarie che fanno prezzi differenti, solitamente con tariffe più economiche in F3, cioè di notte e nei festivi. Sta a voi capire quale scegliere, se lavorate tutto il giorno e state in casa di sera e nei giorni di festa, ovviamente vi conviene probabilmente una tariffa bioraria. Passiamo ora in rassegna veloce tutte le altre voci su cui il fornitore non ha controllo, cioè quei costi imposti che spesso passa, cioè denaro che viene chiesto a voi per vari motivi, che passa dal fornitore che poi finisce nelle tasche di qualcun altro. Siccome sono tutti costi imposti definiti, come dire, li passiamo velocemente per scopo di informazione, ma non serve come dire andare troppo nel dettaglio e i motivi sono due. Sono imposti e non possiamo farci niente e all'interno di queste macro voci ci sono altrettante voci super tecniche. Questi costi sono solitamente dati da Arera o altre fonti governative e vengono aggiornate solitamente ogni trimestre. Nota, come vedremo, in realtà sono sì costi fissi, ma sono anche calcolati sulla percentuale di consumo al kilowatt, ma questa parte variabile è uno 0,0000, quindi comunque è una voce molto molto piccola che in realtà non incide molto. Costi del contatore sono un tot di euro all'anno, un costo al kilowatt più una quota fissa più una quota energia, anch'essa fissa, che però, come detto, è proprio una minima parte. Pagherete circa 20 euro all'anno solo per avere il contatore, più circa un euro e mezzo al kilowatt ogni mese. Se avete una fornitura da 3 kilowatt classica potete quindi considerare circa 6-7 euro al mese fissi, qualcosa in più se i vostri consumi sono molto alti perché c'è uno 0,000 qualcosa su ogni kilowattora consumato. Trasporto e dispacciamento. Senza guardare le singole sottovoci che ci sono sotto questa categoria, cerchiamo, come dire, di capire quanto pesano queste voci sulla bolletta. Io ho calcolato circa un 15%, può andare un poco più su, un poco più giù, il motivo è che sono tutte microvoci di decimi di centesimi di euro calcolate per i kilowattora consumati. In ogni caso, come detto, è qualcosa di fuori controllo. Potete risparmiare poco su questa voce unicamente consumando meno energia. Canon e Rai, ovviamente, almeno per ora, il Canon e Rai è ancora in bolletta, quindi quantomeno ricordatevi di toglierlo dai vostri conti se state cercando di interpretare i costi puri al kilowatt. E infine, accise e tasse. Queste voci parlano da sole, essendo alcune calcolate in percentuale su altre voci, anche qui l'unico modo di abbassarle è abbassare i consumi. Da quello che abbiamo visto c'è una voce principale su cui il fornitore ha veramente controllo e cioè la materia prima. La compra a un tot e la rivenda a un tot, generalmente più qualcosa. Controlliamo che non faccia troppo il furbo sul costo di commercializzazione guardando il PUN e qui, come dire, abbiamo già un'indicazione su quanto quella tariffa è o non è buona. A parte questa cosa, tutto il resto purtroppo fa parte dei costi passanti, chiamiamoli così. L'unico modo per abbassarli, anche se non si abbassano di molto, è abbassare i consumi. Non si abbassano di molto perché, come dicevo prima, sono sempre uno 0,000 qualcosa al kilowatt. Quindi la cosa importante, in generale, è assicurarsi che il fornitore con cui ci stiamo interfacciando, prima di tutto mostri questi costi, perché se non lo fa, probabilmente ha qualcosa da nascondere e solitamente nasconde dei rincari elevati sulle singole voci. Da un po' sono nati i servizi a costi fissi, cioè quelli che cercano di eliminare tutte le incognite, tutte queste singole voci e ragionamenti che stiamo facendo e che vi dicono, la tua bolletta elettrica mensile costa x euro, tutto compreso, punto. Ovviamente per farvi questa offerta, per dirvi quanto vi costa la vostra bolletta, viene calcolata una media sui consumi rispetto alle vostre ultime bollette e, di conseguenza, vi viene fatta un'offerta flat. Meglio una formula del genere che comunque non ha sorprese o meglio una soluzione che varia nel tempo. È un po' come scegliere il mutuo a tasso fisso, tasso variabile. Allo stesso modo siamo davanti a una scommessa, una scommessa in realtà sia per voi sia per il fornitore. Se decidete di fare una formula del genere, magari fissa per 12 o per 24 mesi, solitamente quello che succede è che quel fornitore, quando fate il contratto, acquista quell'energia per voi quando appunto stipulate il contratto. Se poi siete fortunati che consumate di più o siete fortunati perché il prezzo dell'energia nel mercato aumenta, allora starete risparmiando. Ma se il costo dell'energia sul mercato diminuisce o per le formule a prezzo completamente fisso, finite con il consumare meno, in realtà starete perdendo dei soldi. Per me, anche se più complicato, ha senso rimanere su un'offerta variabile, però con un fornitore che chiaramente esplicita tutti i prezzi. Comunque questa è una mia opinione. Se il fornitore di energia decide da un momento all'altro di cambiare le carte in tavola e rettificare il contratto, ricordatevi sempre, sempre che siete nella facoltà di non accettare questi cambiamenti e reccedere dal contratto senza alcun costo. Bene amici, spero che ora sia un po' più chiaro il modo in cui approcciarsi a tutte le voci del corso della bolletta. So che rimarrà qualcosa di ancora non totalmente chiaro, anche perché, come dire, ogni fornitore esplicita i dati a modo suo. In ogni caso ora dovreste avere qualche armi in più per valutare l'offerta di energia, sia la vostra attuale, sia quella di una possibile offerta per un cambio contrattuale. Grazie amici per avermi seguito, se vogliamo parlare facciamolo qui sotto nei commenti, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un altro video. Ciao!